amici del diario motori eccoci qui a parlare del venerdì della gran premio d'olanda per cui insomma una giornata importante la prima giornata di prove che ha visto nella moto gp il ritorno al vertice di maverick vignales che ha rifilato 3 e 67 a folger sempre una yamaha tectra insomma ad assen c'è grip e le yamaha vanno forte anche quelle del 2017 sia vignales che rossi hanno senza dire poi troppo però provato confrontato il telaio 2017 col 2017.1 diciamo quello evoluto che è stato provato nel giorni nel giorno dopo barcellona quel disastro di barcellona insomma comunque folger questa volta è andato più forte di zarco ha preso proprio un po di paga terzo mark marquez a 662 quindi un bella una bella paga anche per lui da vignales che sembra essere tornato quello delle prime due gare di tutta la stagione invernale ma vediamo cosa succederà anche perché per domani è prevista pioggia quindi oggi i piloti hanno tirato un po di più per essere sicuri di andare nella q2 e poi domani casomai ci si penserà se non dovesse piovere ci si rigiocherà tutto domani mattina nell'fp3 ma insomma vediamo quarto andrea dovizioso con la ducati anche lui felice di come è andato non si aspettava di essere così davanti nel fp1 il migliore era stato petrucci che qui è settimo dietro dietro a craccio e a rossi valentino rossi sesto con un ultimo giro e soprattutto un fp4 straordinario è a 700 millesimi quindi al diciamo vicinissimo a marquez da marquez in poi insomma sono tutti molto vicini vale ha tirato fuori un buon terzo giro con le gomme morbide per cui ma chi lo sa vediamo è appunto petrucci è settimo dietro a vale poi c'è zarco bautista e decimo danni pedrosa questi sono quelli per ora nelle f nelle q2 insomma quindi fuori ci sono miller spargarò e corghe lorenzo quattordicesimo che non si è ancora trovato benissimo si vedeva non guidava con la scioltezza la naturalezza di dovizioso po insomma qualche difficoltà ma è ovvio che stia ancora così apprendendo sia ancora in fase di apprendimento corghe lorenzo con la ducati ci saranno piste momenti in cui andrà meglio poi vediamo c'è ancora tutto domani sperando che non piova e soprattutto domenica sperando che sia bello poi c'è anche diciassettesimo jannone oppure una caduta insomma anche la suzuki non si capisce non riesce ad andare abbastanza bene rinsa diciannovesimo non gli dà fastidio la mano però sta rientrando ed è comunque un rookie che arriva dalla moto 2 quindi è tutta la suzuki sulle spalle di jannone non sta facendo per un momento benissimo speriamo che possa migliorare lavorando pian piano insomma cosa dire che quella la cosa principale è il ritorno di vignales che dice io dopo barcellona ho lavorato sono stato da solo a casa ho lavorato su me stesso che col mio preparatore che lo deve avere un po aiutato anche mentalmente perché era molto depresso scoraggiato perché non capiva cosa fosse successo a barcellona e adesso è di nuovo lì forse magari non lo capisci neanche stavolta però tanto è davanti e vediamo se però queste modifiche riusciranno a portare anche rossi più vicini ai primi cosa che potrebbe essere perché sesto alla fine del venerdì non è poi un risultato così male per valentino e passiamo alla moto 2 dove c'è stato un altro ritorno quello di franco morbidelli che è stato davanti mattina e pomeriggio è andato benissimo fortissimo con un passo incredibile primo per il momento davanti a nakagami staccato di 155 millesimi poi il solito luti che non molla mai è sempre lì terzo secondo quarto ma insomma c'è sempre è forse il più pericoloso in vista del mondiale a 181 quindi alex marquez è quarto a 319 millesimi nono baltassari dodicesimo mattia pasini è il sorprendente pasini di questa fase del campionato quattordicesimo corsi sedicesimo bagnaia che ha rinnovato anche per l'anno prossimo il suo impegno con lo sky vr46 team per cui lo vedremo ancora con la stessa divisa l'anno prossimo in moto 2 giusto che si dia continuità perché non è che uno arriva dalla moto 3 alla prima stagione già ha fatto due podi ma poi per diventare un pilota vincente moto 2 serve più tempo moto 3 davanti martin come spesso succede in prova poi cane a 179 millesimi e quindi miri quello che è il dominatore del mondiale fino a questo punto a oltre mezzo secondo 505 millesimi quarto fabio di gianantonio pure lui sempre positivo ultimamente sesto bastianini ottavo fenati e poi gli italiani e gli altri non benissimo arbolino diciassettesimo bulga ventunesimo antonelli ventiduesimo bezzecchi ventitresimo migno venticinquesimo beh speriamo che domani non piovo comunque che in gara riescano a trovare il modo di essere un po più lì davanti anche se non mai per vincere il mondiale diciamo che possiamo puntare tutto su romano fenati perché gli altri sono un po troppo staccati c'è da sottolineare che tatsuki suzuki ha firmato pure lui il contratto col team si c'è 58 squadra corse per continuare pure l'anno prossimo paolo simoncelli non lo vuole mollare lo trova simpatico veloce forte quindi si è ottenuto a suzuki sta bene vivere a rimini e stare con questa squadra quindi bocca al lupo anche loro come a bagnaia che ha rinnovato e così come ha firmato sembra per tre anni anche alex marquez però con un anno o due ancora in moto due come sembra che sia d'accordo morbidelli per passare l'anno prossimo in moto gp sempre con mark vds insomma da assene come sempre comincia a muoversi anche il motomercato vabbè speriamo che non ci siano delle menate tipo donnarumma ecco no scherzo ciao a domani domani qualifiche ciao ciao ciao